Ciao a tutti. Nella presenza di Gesù. Oggi siamo felici di annunciarvi che iniziamo una nuova serie di messaggi di speranza o sermoni come li volete chiamare frutto di anni di esperienza con Dio, con la sua potenza e con le sue vie. Iniziamo con una piccola preghiera. Signore in te confido. Metto questo canale e queste serie sotto le tue mani, così da sapere che tu provvederai a riempire i cuori delle persone che stanno ascoltando, con la tua parola, che è vita su noi. Ti chiediamo di ravvivare la nostra condizione del corpo, spirito e mente, così da essere pronti e fare spazio, nel nostro cuore per te. Nel nome di Gesù Amen. Con questa piccola preghiera siamo pronti, a ricevere il messaggio di oggi, prima di tutti come stai. Riesci a capirlo realmente? Potresti stare meglio, non è vero? Sappi che, se senti qualcosa mancare, nella tua vita e della tua famiglia, molto probabilmente è una relazione, sincera e continua con Dio, perché la felicità è solo una parola, ma può diventare realtà, solo con la presenza di Gesù. Titolo di oggi, Appuntamento con Dio Sì, hai appuntamenti giornalieri con Dio? Almeno uno al giorno, lo metti nel tuo programma? Se non lo fai, stai mancando. Alla più grande chiamata da cristiano, non deve essere, una preghiera di un'ora, anche cinque minuti sinceri sono sufficienti per iniziare a vivere con Dio. Così Lui sarà sempre con te, nel tuo cuore, ovunque tu andrai. La Bibbia Cello insegna, il primo comandamento, il più grande, è nel libro di Matteo, capitolo 22, verso 37, e dice, ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Pensalo! Amalo! Parla con Lui sempre! Ti può salvare da ogni situazione. Prega nel nome di Gesù, anche per piccole cose, come se fosse un amico, e Lui si riveler a te e alla tua vita. Perché quando saprai usare il nome di Gesù nella potenza dello Spirito Santo, allora avrai il segreto più grande della vita. Possa Dio benedirvi in ogni benedizione spirituale, nel potentissimo nome del nostro amato Gesù, Amen. Scriviti al canale, permetti che Dio tocchi la tua vita, i tuoi cari, i tuoi amici. Sarai un canale di soluzioni, vi saluto, ciao a domani. Ciao a domani, ciao a domani.